Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ma oggi non siamo su Brawl, cioè siamo su Brawl ma il video non si, cioè non sarà di Brawl, ma un video un po' diverso dal solito perché me l'avete chiesto un po' in tanti, ve l'avevo anche anticipato in un post. Vi dirò io cosa uso per Youtube e qualche consiglio e niente. Allora, prima cosa fondamentale di Youtube, non dovete iniziare a farlo Youtuber solo perché pensate che poi diventi un lavoro, oppure per guadagnare, perché voi lo dovete fare non per guadagnare, perché può diventare lavoro ma non sempre. E poi dovete pensare se vi piace, non dovete fare una cosa che non vi piace solo perché si guadagna molto. Quindi ragazzi, questo è il primo passo. Poi se non volete ascoltarmi, fa niente, io vi do solo dei consigli. Allora, io in realtà ragazzi utilizzo un microfono, infatti in questi giorni la mia voce si sentirà abbastanza forte. Per editare invece utilizzo CapCut, molto utile anche per aumentare il volume della voce, se no non si sente. Poi ragazzi un altro consiglio che vi do, se dovete fare video di gaming, vi consiglio di non mettere il volume, di abbassarlo quando fate il video, se no non si sente la vostra voce. E poi, poi ragazzi, io come vi ho detto utilizzo, allora io utilizzo la Screen Recorder, che è un'app che mi permette di registrare mentre gioco. E quindi ragazzi ve la consiglio, se no ci sarebbe anche proprio l'app del cellulare, che sarebbe quella, questa qui. Allora dovete cliccare praticamente qui, no non qui scusate, qui e vi farà registrare. Potete registrare, qui potete registrare ragazzi. Quindi anche questa è una buona app per registrare che non si vede neanche il pallino. Se no ragazzi un altro app simile c'è Mobizen, invece per le live io utilizzo Mobizen Live, che è quella che permette al meglio di fare le live. Se no ci sarebbe anche a The Screen che, ragazzi, guardate, vi faccio proprio vedere in diretta. Se la cliccate, c'è anche, cioè non vi posso fare vedere in diretta, però c'è anche scritto live, dove ci saranno le live su YouTube e su Facebook. Però non vanno molto bene, infatti si sente la voce robotica, quindi io vi consiglio Mobizen Live. Comunque ragazzi, scusate se prima sono arrivati dei messaggi, li avrò censurati, spero. E niente. Comunque, questi sono i consigli. E poi, ragazzi, vi consiglio di avere una buona registrazione, cioè buona qualità audio, schermo che si vede bene, che non si vede luminoso. Queste sono altre cose molto importanti per comunque ricevere un po' di iscritti. E un'altra cosa, ragazzi, che vi consiglio di fare dei video importanti, cioè che riesco ad intrattenere. Allora, io di solito ho sempre fatto una cosa. Ho detto, ma io questo video lo vorrei vedere, boh, se volete fatevi anche voi questa domanda. Se anche voi lo volete, cioè se voi lo vorreste vedere, significa che il video comunque è intrattenente. Quindi, ragazzi, io vi consiglio di fare video intrattenenti. Per esempio, Brawl Stars, ma, cioè, delle challenge, per esempio. Quei video potrebbero essere molto intrattenenti e magari non fare semplicemente delle partite, perché potrebbero intrattenere molto di meno. Oppure un rank 25, un rank 30. Potrebbero essere molto intrattenenti. Ovviamente non è detto che voi portate Brawl Stars, però un consiglio è di portare Brawl Stars, perché comunque è un gioco molto attivo in questo momento, quindi potrebbe piacere anche molto. Allora, ragazzi, questi sono i consigli che vi ho dato. Io, più che altro, non utilizzo fotocamere per, cioè, non utilizzo, tipo, fotocamere per fare il vlog, anche se alcuni li ho fatti. E niente, poi c'è anche la webcam, ma io non la utilizzo. Poi, vabbè, lì nell'app c'è, se la volete mettere per mostrarvi la faccia. E poi, niente, io vi consiglio di fare delle copertine, perché così intrattenete di più, per fare i video, cioè, per vedere il video, per esempio, mettendo, magari, delle cose molto carine. Cioè, più o meno, fate finta che il video è, tipo, spacchetto molti start-drop. Boh, vi consiglio di mettere, tipo, degli start-drop leggendari, non so, un po' di cose. Delle gemme, magari, dei bling, queste cose. Un po' per tenere anche di più, magari. E poi, ragazzi, vi consiglio l'editing, perché è molto, molto importante. Perché, comunque, serve l'editing. Se fate un video, completamente, senza nessun edit, senza niente, un po', l'intrattenimento perde. E poi, comunque, ragazzi, se volete iscritti free, gli shows sono perfetti. Però, io vi consiglio di fare i video, perché, comunque, sono i veri iscritti che si ricavano da lì. Allora, niente, ragazzi, se volete iniziare a fare gli youtuber, oppure se volete accettare questi consigli, e poi, se non li volete accettare, fa niente, questi sono i miei consigli. Quindi, se volete accettarli, bene, se no, fa niente. Allora, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Scusate per questo breve video, che, comunque, ho pubblicato. Ve l'avevo anche anticipato, come ho già detto. E, niente, me l'avete chiesto molti. E, quindi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Bella. Ciao. Ciao.